Ciao a tutti amici di Sunshine Money, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre, prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi, ad attivare la campanellina e a lasciare un bel like a questo video. Questi sono gesti che a voi non costano assolutamente nulla, a me aiutano ai fini della crescita del canale. E ciao a tutti amici di Sunshine Money, come avrete sicuramente capito, la voce che avete appena sentito è stata interamente realizzata con un'intelligenza artificiale. A proposito di ciò, qualche giorno fa ho prodotto questo video che ho visto che ha riscosso un discreto successo. E proprio per questo motivo ho deciso di realizzare un nuovo video per approfondire l'argomento. In questo video proponevo l'idea della realizzazione di un canale YouTube completamente in inglese, avvalendoci del potenziale enorme che l'intelligenza artificiale ci mette a disposizione. Vi facevo quindi vedere alcuni potentissimi tool che sicuramente possono venirci in aiuto a tale scopo, come ad esempio ormai la conosciutissima ChatGBT oppure Flicky. A proposito di quest'ultima, che secondo il mio modestissimo parere è uno strumento validissimo, potentissimo e veramente molto molto interessante, un limite per alcuni potrebbe essere rappresentato dal fatto che dopo un breve periodo di prova il tutto diventa a pagamento. In funzione a questo mi sono voluto mettere alla ricerca di uno strumento altrettanto valido che mi permettesse quindi di realizzare i miei video con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, ma completamente gratuito. Grazie alle mie ricerche adesso quindi vi farò vedere uno spezzone di quello che sono riuscito a realizzare, avvalendomi di intelligenze artificiali completamente gratuite. Grazie a tutti. 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 bisogno di altri clip o altre immagini potremmo utilizzare Pexels. Pexels è praticamente un database veramente enorme dove a livello gratuito possiamo ricercare immagini e video. Quindi ad esempio una volta che abbiamo importato le nostre clip possiamo disporle secondo le nostre esigenze sulla timeline ad esempio in questo modo possiamo anche mettere delle dissolvenze tra una clip e un'altra basterà andare nella sezione transazioni qui abbiamo tutte le dissolvenze le transazioni del caso alcune sono a pagamento queste con il diamante altre gratuite quindi facendo riferimento sempre al gratuito basterà trascinarle in questo modo e adesso come potete vedere tra una clip o un'altra ci sarà la dissolvenza insomma una volta che abbiamo messo su quindi il nostro video potremo dedicarci alla parte audio quindi creare la nostra sintesi vocale se vogliamo basterà andare nella sezione regista e crea quindi sintesi vocale decidere la lingua che vogliamo usare nel nostro caso ad esempio italiano ci sono vari personaggi sia maschili che femminili noi andiamo a decidere a seconda dei nostri gusti ad esempio nel mio caso andrò a scegliere cataldo qui andremo a digitare il testo o comunque a incollare il testo appena copiato da chat gbt nel mio caso ne vado a digitare uno per prova ad esempio ciao a tutti mi chiamo stefano possiamo anche sentire che voce a cataldo ci basterà premere su questo play ecco qui un attimino ciao a tutti mi chiamo stefano ecco qui avete sentito il nome il la voce perdonatemi di cataldo possiamo decidere se farlo parlare in modo più lento o più rapido possiamo anche decidere la tonalità della sua voce insomma una volta decise le impostazioni che la nostra sintesi vocale debba avere ci basterà cliccare su salva nei contenuti multimediali in un attimo quindi la nostra sintesi vocale sarà creata eccola qui ci basterà quindi premere sul più e sarà importata all'interno del nostro progetto andiamo a sentire tutto qua ciao a tutti mi chiamo stefano eccola qui adesso possiamo anche quindi creare i sottotitoli basterà andare qui in alto a destra nella sezione quindi sottotitoli attiva sottotitoli automatici anche qui dovremo decidere la lingua andiamo a scegliere italiano italia attiva sottotitoli automatici e in un attimo quindi il programma se vogliamo l'intelligenza artificiale creerà i nostri sottotitoli ciao a tutti mi chiamo stefano insomma una volta comunque che avrete creato il vostro video vi basterà cliccare su esporta quindi decidere il formato del video la qualità del video esportarlo salvarlo sul vostro computer e eventualmente caricarlo sul vostro canale youtube ed il gioco è fatto se ti è piaciuto il video per favore lascia un mi piace attiva la campanellina delle notifiche iscriviti al canale grazie ciao e al prossimo video